il top di roma il quasi top perchè il top è portaportese a via sagnone la portaportese settimanale in piccolo ma romana proprio top non so guidare non so guidare il piacere romano tipico che ti serve un giochietto questo è il mercatino di viasagno se c'è se c'è te faccio conoscerci c'è uno che è uguale al c'è che pare ah si? vabbè lì che so vabbè dimmi un po' sono jeans free market ozzi divisi per market intanto ci sono i bubi eh i san pietrini qua sono caratteristici di roba che faccio rompere le caviglie però sono quelli originali eh si ho capito ma sono originali pure le mie caviglie è chiuso era questo guarda sono due volte che ci vengono a cambiare metti un po' là certo metti a fianco no ma devo vedere pure quelli da dobbiamo vedere quelli per Giulia sei uguale l'abbiamo appena penso che sia questo me lo metto io ahahah è quello sulla domenica mattina qui trovi più tutto la domenica mattina mi sa che sarà raro che ci andiamo è una domanda capito si poi per parcheggiare non ti dico ma lì passi così eh stai così per quanto è piena almeno quando ci sono andata io l'ultima volta è una vita che non ci vado più che bello allora poco più poco meno poi c'è sta certo c'è sta se per qualcosa c'è ferramenta qua che è giusta anche quello si lì qua guarda te vediamo che questo è un'intrazione si è accorto che ho preso un affare una fregatura perché quello i vestiti mi ha messi a 10 e quel giacchetto e il giacchetto a 5 quell'altro mi ha messo a 15 ah no si è accorto cioè il primo banco mi ha messo per più ma hai fatto fare l'affare a giubbotto per me no ho risparmiato su quello dei vestiti l'ho pagato poco però il primo quei bustini non mi sembra anche gente che povera non è che affare però capito c'è un po' compriamo il vestito a 10 cioè se ce lo menevamo a 100 lo portavamo via lo stesso si a 100 te lo davo però io non ce la faccio stringere così come la stazione diceva la stessa arte culinaria la stessa la stessa la stessa la stessa la stessa